Presentato a Palazzo Ducale, il ventitresimo torneo internazionale Città di Sassari, Memoria al Matteo Pellicone, di lotta olimpica stile libero e greco-romana, organizzato dalla polisportiva Athlon. Il 25 e 26 maggio, al Palace Radimigni di Piazzale Segni, si sfideranno atleti provenienti da 26 nazioni sparse per tutto il mondo. La prima giornata sarà dedicata alle categorie cadetti e junior, mentre sabato 26 sarà il turno dei senior, che concluderanno una due giorni di puro sport, all'insegna sì della competizione, ma anche dell'aggregazione multiculturale, come spiega la dottoressa Albacano, assessore allo sport del comune di Sassari. È un grande evento, perché mette insieme atleti e atlete di tante nazionalità, quindi in un momento di grande comunione e di fratellanza, che poi è il valore fondamentale dello sport. Lo fa in un territorio molto bello e abbina sport, fratellanza e turismo. Credo che sia veramente il massimo degli obiettivi da raggiungere. Si prospetta un grande spettacolo sulle materassine del Palace Radimigni, perché quest'anno il città di Sassari vedrà sfidarsi i migliori atleti del panorama mondiale, che faranno le prove generali in vista dei prossimi campionati del mondo. Inoltre sarà un'edizione davvero speciale, perché ricade nel trentennale di attività della polisportiva Athlon, che nella sua lunga storia ha portato al successo tanti atleti e si è sempre contraddistinta in Italia e nel mondo, come ricorda il delegato provinciale del CONI, Lucio Masia. Ancora una volta quindi l'organizzazione ha compiuto il miracolo di far arrivare a Sassari oltre trenta nazioni, per cui ancora una volta questo ventitresimo torneo internazionale avrà il suo epilogo con la magnificenza del palazzetto dello sport, il Palace Radimigni, che ancora una volta potrà annoverare fra i vincitori alcuni atleti che in passato hanno conquistato medaglie sia alle Olimpiadi che ai campionati mondiali che ai campionati europei.